Player, benvenuto in questo episodio 0 di Seducimi Il podcast numero 1 in Italia che ti aiuta a migliorare in ambito sentimentale Qui è Kita che vi parla E qui è Johnny E in questa puntata 0 semplicemente perché la stiamo facendo? Per dirti player che se ti interessano tutte le tematiche che riguardano le dinamiche relazionali Gli approcci, i rimorchi, le relazioni, la seduzione, eccetera 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 Questo è il momento di iscriverti al canale e ciucciarti tutte le prossime puntate che usciranno Perché player ne vedrai delle belle, imparerai un sacco, migliorerai un sacco E riuscirai finalmente a metterti in gioco, migliorare a livello sentimentale, ottenere ciò che desideri Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, attiva la campanella In modo tale che così poi ti arrivano le notifiche perché ben presto ti bombarderemo letteralmente Vero ragazze? Oh yes, io volevo aggiungere qualcosa ma hai detto tutto Direi che ci siamo, ci siamo raga, ci siamo Quindi mi raccomando iscriviti al canale Stai attento perché davvero vedrai delle cose assurde nei prossimi episodi Non perdertene neanche uno Let's go!